ciao amici di youtube benvenuti nel mio canale manu channel mi raccomando che non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate like e soprattutto commentate sono in una situazione disperata la vedete playstation 3 non mi si accende cioè mi si accende però non legge i giochi ragazzi chi mi sa dire perché scrivetemelo nei commenti l'ho provata anche a pulirli il lettore ottico della playstation però niente credevo che erano il gioco rigato invece ho messo un altro gioco invece non me la prende lo stesso chi mi sa dire perché non prende mi sa praticamente o ce la butto se mi stanco ce la butto e via ragazzi perché non so cosa gli succeda vedete è seminuova è praticamente seminuova ce l'ho da un cinque sei anni però cavolo l'ho sempre trattata bene non so che cavolo li sta prendendo boh o è il lettore che si è che si è rotto perché cavolo l'ho pulito eppure i giochi non me li legge non so perché ragazzi scrivetelo nei commenti perché non prende non leggo se sembra bloccata boh cioè accende si accende però non mi legge il gioco ho messo penso 2012 gta gta 5 però non me lo legge scrivetemi nei commenti perché che cosa bisogna fare se no io ce la butto direttamente via ce la butto dal balcone via e che cavolo non ne posso più guarda eh faccio prima prendermi la playstation 5 vedete playstation 3 cavolo prima ci giocavo gta 5 pesce 2012 ora non fa più boh non so proprio perché eppure gli ho pulito il lettore che ho pulito il disco io gli ho messo poco 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 di cosa umida nel lettore proprio per pulirlo ci ho provato però praticamente non mi legge nessun gioco dopo ci riprovo vediamo provo a pulirlo e vediamo cosa mi cosa cosa riesco a fare vediamo un po ragazzi poi vi aggiornerò nei miei vi aggiornerò nei miei video e speriamo che riesca a metterla a posto ragazzi se no ce la butto e faccio prima vedremo un po vedremo un po e adesso parliamo di calcio come sempre che volevo giocare a pesce invece la mia cara playstation non mi fa giocare pazienza ora vediamo atalanta roma 2 a 1 da parte delle che umiliazione una roma proprio umiliata stava per fare pure il 3 a 0 e alla fine finita 2 a 1 incredibile che vergogna mamma mia che vergogna juventus salernetano 1 a 1 poi di allegri non ne parliamo di allegri una una juve che non riesce a vincere con l'ultima in classifica quando in turchia che la terza con l'ultima gli ha fatto 3 a 0 e la juve che fa non riesce a vincere con l'ultima in classifica ma da incredibile ragazzi e intanto stasera c'è lecce udinese alle 18 e 30 e fiorentina monza alle 20 e 45 ragazzi quindi vedremo la fine di questa trentaseiesima agoniata giornata vedremo come finirà allora il gol sono stati atalanta roma di de kettler doppietta e poi pellegrini ma un'umiliazione incredibile della roma capisco che era stanca ma anche l'atalanta ha giocato giovedì come la roma ma non puoi fare quei passaggi lì certo che poi l'atalanta ti ti mette a muro e ti batte era quasi 3 a 0 ragazzi è stata una qualcosa di impressionante incredibile vabbè che poi è finita 2 a 1 però dai è un'umiliazione così incredibile e poi lecce udinese come finirà scrivetemelo nei commenti il lecce che starà già festeggiando la salvezza regalerà la partita all'udinese scrivetemelo nei commenti poi fiorentina monza 20 e 45 come finirà la fiorentina sta già pensando alla finale di conference league e magari lascerà vincere al monza chissà scrivete tutto nei commenti ora vediamo la classifica per il finale salvezza e la finale per i posti in champions allora come vediamo inter milan bologna e juve sono già in champions sicure ora manca soltanto per il quinto posto in champions ce l'ha con questa vittoria l'atalanta a 63 punti 63 punti atalanta poi troviamo roma 60 roma 60 poi troviamo settima lazio 59 e queste tre squadre si si prendono soltanto un posto per andare in champions league ormai per il napoli non fa più niente perché l'ottavo posto addirittura 51 punti il napoli è proprio crollato ragazzi crollato ha regalato pure il pareggio in casa dell'udinese una cosa proprio imbarazzante proprio i giocatori che non corrono niente bloccati immobili una cosa imbarazzante allora atalanta quinta 63 punti con questa vittoria andata più 3 con questa vittoria andata più 3 sulla sulla roma che ora è sesta 60 punti c'è stato lo scontro diretto infatti atalanta roma 2 a 1 poi settima lazio 59 queste tre squadre si giocano un posto in champions e scrivetemi quale secondo voi andrà in champions troviamo atalanta poi troviamo roma meno 3 e lazio meno 4 chi andrà in champions secondo voi scrivetemelo nei commenti chi andrà in champions e fatemi anche sapere per la playstation cosa dovrei fare se buttarcela o magari pulirla con quelle con qualche batuffolo di cotone o alcol scrivetemelo nei commenti e ora andiamo a vedere la corsa alla salvezza troviamo una salernitana che è già in b che ha pareggiato a torino con la juve in casa è qualcosa di imbarazzante allegri toglietemelo via fuori perché non c'ha un gioco di niente con l'ultima già in b fai 1 a 1 e stava per vincere pure la salernitana qualcosa di imbarazzante veramente poi allora sassuolo sassuolo 29 punti quasi in b se non vince col cagliari 100% serie b poi udinese 30 oggi è l'ago della bilancia della partita lecce udinese il lecce magari gliela regalera chi lo sa visto che stanno già festeggiando la salvezza poi troviamo empoli 32 l'empoli è con udinese e empoli ragazzi quindi l'allenatore nicola sta già preparando la trasferta di udine vedremo come finirà se riuscirà a bloccare l'udinese visto che l'udinese è sempre stato terzo ultimo fino a queste giornate qua ora vedremo come finirà poi troviamo frosinone 32 monza frosinone scrivetemi nei commenti come finirà monza frosinone ragazzi perché anche il frosinone si sta giocando una fetta bella di salvezza e secondo me il frosinone all'ultima ne dirà tante all'udinese visto che c'ha monza frosinone e frosinone udinese qualcosa di incredibile proprio all'ultimo cannavaro non so se nuovo allenatore non so se se vince oggi a lecce ragazzi si gioca una bella fetta di salvezza cannavaro è l'allenatore dell'udinese vedremo vedremo poi poi troviamo cagliari 33 che si gioca tutto in casa del sassuolo se vince è salvo se pareggia tocca ancora soffrire nel cagliari deve ancora soffrire se pareggia ma se vince è salvo poi verona 34 in casa della salernitana salernitana verona credo credo che vinca la salernitana è già in b però ha dimostrato che non mollerà a torino ha pareggiato e stava per vincere ragazzi quindi secondo me non mollerà la salernitana salernitana verona poi come detto il lecce già salvo 37 punti vedremo se stasera gliela regalera all'udinese che magari avrà festeggiato la salvezza vedremo un po vedremo un po chissà se non farà regali o magari gliela regalera veramente all'udinese chissà vedremo stasera come giocherà intanto il monza si il monza era salvo già da già da mogra salvo 45 punti troviamo genoa 46 e decimo torino addirittura 50 punti come la fiorentina 50 punti e ottavo il napoli 51 che come dicevo è crollato e non prenderà più la lazio per il posto cempio sa quota 59 addirittura ragazzi intanto io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto questo era un video anche per per cercare di capire se qualcuno di voi sa come far sì che riesca a mettere a posto questa benedetta playstation 3 perché questa playstation 3 è stato un ricordo l'ho comprata ce l'ho da molto un bel paio d'anni 5 6 anni 7 8 anni una cosa del genere una decina d'anni però la volevo mettere a posto ma metto il gioco e si blocca non so come fare scrivetemi nei commenti come fare ragazzi perché ci terrei tanto a salvarla se proprio devo la butto via perché per pagare 100 200 euro cosa di riparazione faccio prima prendermi la playstation 5 ragazzi secondo me così faccio prima sì comunque io vi ringrazio ragazzi spero che il video vi sia piaciuto intanto ricordatevi di iscrivervi al canale anche perché così potete commentare per la playstation iscrivetevi al canale lasciate like e soprattutto commentate io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi